E' una partita della stagione, affrontiamo così, una partita molto importante a livello psicologico della squadra, che veniamo di un brutto momento, però la squadra è consapevole di fare una grande partita, anche perché se succede qualcosa a Varesi ci mettiamo molto male in classifica, allora dobbiamo vincere questa partita per forza e cercare di risalire e di stare più tranquilli per la salvezza. Guarda, tre sconfitte venne sempre in mente, perché stavamo facendo un campionato abbastanza normale, senza perdere tante difficoltà adesso, che abbiamo perso queste tre partite, ci mette un po' a pensare che sarà duro se non riusciamo a uscire di questa fase, no? Allora dobbiamo essere concentrati, siamo un gruppo abbastanza tranquillo a questo aspetto di affrontare questa partita con abbastanza concentrazione, mi sa che farà una grande gara, ma guarda che se ti guarda la classifica, se ti fai due risultati di seguo ti rialza, se ti fai due o tre negativo ti abbassa, è un campionato, sappiamo, è difficile, Serie B è così, dobbiamo affrontare tutte le gare come se fosse l'ultima, noi è difficile perché è difficile dire, però chi sta in campo lì, cioè io sto dando sempre il mio massimo, penso che tutti che stanno giocando stanno dando il massimo, magari le cose non vanno bene, però a rispetto da Livorno, a rispetto a Ascoli non c'è niente da dire, l'aspetto cattiveria, perché anche con Livorno in 10 abbiamo creato tanto e abbiamo giocato pure meglio di loro, a Brescia ci è mancato queste cose di cattiveria, però il gruppo sa quello che deve fare per la prossima partita, dobbiamo mettere tutto, mettere impegno, dobbiamo essere più cattivi e al di là di tutto dobbiamo vincere.